Salve a tutti, sono Don Vincenzo e in qualità in veste di assistente dell'Unitalsi. L'Unitalsi è quell'associazione di volontari che ha a cuore anche il trasporto degli ammalati nei santuari Lourdes, Loreto, Santuari Internazionali. Allora, sono qui a comunicare a tutta la diocesi che quest'anno avremo due appuntamenti con i pellegrinaggi nei santuari di Mariani, a Loreto, alla seconda metà di agosto e soprattutto abbiamo il grande pellegrinaggio diocesano all'Urd dall'11 al 16 settembre prossimo. Quindi dall'11 al 16 settembre prossimo la nostra diocesi, anche con la presenza del nostro Vescovo Carlo e dei sacerdoti e di quanti vorranno, anziani, portatori di handicap ammalati, pellegrini, saremo ancora una volta presso la grotta di Massabiella a Lourdes a portare le nostre preghiere alla Vergine Maria. Lo ripeto, è un pellegrinaggio diocesano, quindi partirà da San Benedetto con il treno, si può partire e col treno da San Benedetto il 14 o con l'aereo il 15, non da San Benedetto o da Pescara o da Roma e sarà veramente un'altra meravigliosa e bellissima esperienza. Vi invito tutti perché andare a casa di Maria è sempre una gioia per tutti noi. Ciao a voi!